Un cordiale saluto ragazzi, bentrovati con le live reaction da parte del sottoscritto. La scorsa live reaction non c'è stata per via del fatto che non mi funzionava l'audio sia del PC che del microfono, poi grazie a Dio ho sistemato tutto. Siamo qui per vedere questa splendida reaction, come no, splendissima reaction di Napoli e Juventus. Juventus che deve vincere, deve tenere lontano il Bologna, deve tenere lontano la Roma che sta continuando a vincere e tante altre squadre. Prima di parlare della partita, di managing e la reaction, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per avere notifiche riguardanti tutto quello che succede sul nostro canale. e mettete anche mi piace al video, se mi piacerà il video della reaction. Quindi, detto questo, Alessandro titolare, per problemi pari, familiari, gatti, non gioca, saranno già smadonne, lo scopriamo tra poco, spero gioia, anche se in questa formazione saranno solo smadonne. A dopo. Ma no, che errore che ha fatto qui, da parte di Linger Junior. Allora, attenzione a Politano, Politano, attenzione, sbaglia, non vi sa, meno male. Quindi, provo a capire, provo a ripartire, è cambiato. Rega, c'ho conto, guarda che bucchi. Ma non dagliela così lunga che non c'è nessuno. Non dagliela così lunga che non c'è un cane di nessuno. Brando e Chiesa qua, Federico Chiesa che richiede la palla. Chiesa, Chiesa, il pallone in mezzo. Colpo di testa di Blavich, nooo, fuori, fuori il colpo di testa di Blavich. Il primo pallo su Blavich già iniziano a dare il primo giallo. Ma stiamo scherzando, c'è. Guarda giallo, porta, mi bello. Pallo c'è, ma non è a dare il scelto giallo, porta, mi bello. In the junior, in the junior, in the junior, in the junior. Prova il tiro in the junior. Spara, metto. E si tira, finalmente. Attenzione, nooo, madonna mia, cosa stava facendo? Mi stia, era facciata. Poi un dissaccio per i batti, l'ha presa in tempo. Controllata malissimo, eh. Mamma mia, terizio. Mamma mia, terizio, ragazzi. Nell'altra di cullola, stiretti, minetti. Dai, per Cambiaso. Il cross, colpo di testa. Un tiro di junior, un altissimo. Altissimo il tiro di junior. Un'occasione a partimento, insomma, ragazzi. Comunque tutte le cose nostre nascono dalla fascia destra. Nella fascia destra del Napoli lascia di quelle fratelli. E poi il filaccio. Da parte di junior, lì non va tanto da un velo di Vlaovic. Non è un grandissimo tiro da parte di junior, lo si vede. Bella, bella quella attenzione, Vlaovic. No, palo, ma non ci credo. Palo. Palo della Juventus contro la Vlaovic. Ma non puoi mangiarti in gol così, però. Miretti, Miretti, Miretti. Ma cosa fai? Cosa tiri? È impossibile, perdon lì. Ma dai, Miretti, c'era... Vai avanti, non tirare dalla distanza. Che non sei... Non sei Modric, santo Dio. Ma questo è fallo, però. Ma come fai non dar... Fallo, come fai non dar fallo? Come fai non dar fallo, lì, su Vlaovic? Ma adesso, Rugani, non fallo, che... Mamma mia, pure centrali. Due tempi. Io lo stai da parte di... Vico Vara, Lorenzo, colpo di testa. Ma preme non fallo, assist, gol del Napoli. Gol del Napoli. Ma dai, per cadare, parami. Ma dai... Ma va qua il Julio Bremmery. Questa è un assist. No, no, veramente... Sono senza forze. Non voglio... Non voglio... Non voglio... Invecazzare, mio Mario. Io non ne posso più, veramente, di avere allegri in pancina. Dai, ancora... Alcarazzo, Alcarazzo, mamma mia. Tiro di merda, hai scivolato. E finisce sto primo tempo. 1-0 con il Napoli. La Juve, teoricamente, non ha neanche giocato male. Ma purtroppo, noi... Siamo... Sfortunati. Siamo sfortunati, proprio anche a livello sportivo. Perché prendiamo il palo, non facciamo gol. Bremmer fa la cazzata, prendiamo gol. E ce lo prendiamo nel posto. Grazie, grazie, ragazzi. Bravo mister, che sei un portagliella. Comunque. Dai, ragazzi, però non stiamo là... A cicciscare col pallone, che cazzo. Andiamo su, Lovic. Ce ne chiesa. Un bello questa chiesa. Chiesa. Alcarazzo, c'è l'allugata. No, no, no. Alcarazzo. Porca miseria. Cioè, dovesti prendertela con Bremmer, non con Locatelli a cercare di far rissa. Santo Dio. Dai, passa, passa sta palla. Non la passa mai sto qui. Tu vizio di non passarla. Poi l'abito non fisca neanche se... Se... Hai una bella figlia davanti a lui. Non la mangiare il giugno. Prese contotempo, ragazzi, però... Piesa, piesa. Il tiro, gollo! Il pareggio della Juve. Pareggio. Palla in buca d'angolo. Pareggio. Nella nuova posizione d'esterno offensivo. E qui qualcuno deve chiedere scusa, vero? Max, devi chiedere scusa a Federico. Aleandro. Chiesa. Federico. Aleandro. Chiesa. Possiamo per rubargli la palla, Santo Dio, Di Lorenzo. Attenzione, Osimè. Osimè, attenzione, Napoli. Non fate palla. Qua non c'è niente. Provate ad uscire ancora la Juve per un attimo. Vabbè, questo è tre ore a terra. Aspadori continuano di nuoto. Queste tre ore a terra, dai. Non provateci a dare rigore a Napoli. Non provateci. Non provateci. Questo è sempre venuto fuori. Da vincitori. Questo è il settore per ora. Aia qua. Aia qua, Gondi. Per me è questo calcio di rigore. Sto stronzo. Sto stronzo di ingozzo. Sto stronzo di ingozzo. E viene colpito di me stesso. Va a vedere subito. Ma... Ma è palese. Ma è palese come... Come... Come pizzo dopo la birra. Ma è palese. 4-50. Eccolo quell'intervento. Ma stevi starci meglio. Ma di nice guardi di rigore. Lo dà. Lo dà. Lo dà. Lo dà. Lo dà. Lo dà. Guardando il monitor, il direttore di gara. Lo dà. Quando mai non dà un rigore al punto di mano. Quando mai lo dà. Calcio di rigore. Dai, daglielo. Bravo. Bravo, Gondi. Bravo. Quindi l'intervento sulla gamba dell'avversario. Bravi. Come fare beneficenza a Napoli. Come fare beneficenza a Napoli. Bravo, Gondi. Come fare beneficenza a Napoli. Come fare beneficenza a Napoli. Me la prendo con l'ambito. Me la prendo con... Adesso... Come per l'atteggiamento posso... Il posto è bollino. Il numero 47. Come fare beneficenza a Napoli. Adesso discussioni. Bremen, Fara. Altriana, Sosinien. L'Oroca. Tutti da quale parti. Scesni con i palloni in mano. Ovviamente adesso diventa anche un gioco psicologico. Vediamo se Tec ne parà una nella sua vita. Se la sua benedetta vita ne parlasse una. Troppo deciso nella palla. Osman. Osman era a spalla alla porta. Rattacchante straordinario. E' inutile che ti lamenti. L'hai messo tu in campo. E' inutile che ti lamenti. Frenomeno. L'ora è certo. Se poi va fuori tempo. Se questo va fuori tempo. Che cazzo di colpa? Osman è scesi. Non lo para. Ve lo dico qua. Lo segna. Lo segna. Ve lo dico qua. Segnato. Non lo sbaglia mai Osman. Non lo sbaglia mai Osman. Lo sguardo di Scesni. Tec non para a ricordare dal 97. Ve lo dico qua. La maschera. E la concentrazione di Osman. Lo segna sicuramente Osman. Ve lo dico qua. Ma il nico del futuro ve lo dice che segna. Sparata. Ma questo mi fa proprio girare i coglioni. Dai. Ma dai. E questo mi fa proprio girare il cazzo. Barzelletta. Siete una barzelletta. Siete un'associazione a delinquere ragazzi. Siete un'associazione a delinquere. Cari miei. Parlo della Juventus. Siete un'associazione a delinquere per fare incazzare i tifosi. Verconiosi. Un'associazione a delinquere la Juventus. Ma cosa mi lamentava? Che è un'associazione a delinquere ragazzi. Se fa male a noi. Tu non sei rotto il conno in sostenere questa roba. E' un'associazione a delinquere. E' un'associazione a delinquere. E' un'associazione a delinquere. E' un'associazione a delinquere. Dunque devi togliere il patentino all'entrino. Devi togliere il patentino porco di viaz. Quindi devi proprio stracciarti nel patentino. Ma come fai? Cioè fai uscire in gong per fare il carattino. Ma hai fatto tu un cambio il coglionito. Sei un coglionito. Non ci capisci un cazzo all'entrino. Se fai entrare il giovane e lo fai uscire appena fa una cazzata lo fai uscire. Ma l'hai distrutto. Ma tu sei veramente, sei una roba, sei una roba vergognosa, allegri. Io non ne posso più, vero. Io spero che ai miei giugni che ti prendano badilate fuori dalle quali ti cacciano. Ma che ti cacciano proprio a calci e che proprio ti dissociano. Che non si fanno vedere proprio da te. Che proprio non ti fanno più entrare alla continessa. E' un'associazione a delinquere. E' un'associazione a delinquere. E' un'associazione a delinquere allegri. Massimiliano Allegri. Complimenti. Un'esima figura di merda. Complimenti. Mi fa girare il tazzo e perdere così. E' un'associazione a delinquere. Bravo mister. Bravo mister. Rinnovateli ancora due anni. Rinnovateli ancora due anni questo pezzo di merda. Io adesso non lo socio più. Porta, guarda. Rinnovateli il contratto questo qua. Cioè, lo fa entrare in gong. Appena fa il fallo del rigore lo fa uscire. Ma sei un coglione. L'hai fatto entrare in gong deficiente. Io, io veramente. Poi si. Ma io questo zio. No, ma non puoi mangiarti in gol. Ma non puoi mangiarti in gol così. Ma non puoi mangiarti in gol così. Ma Dio buono. Non puoi mangiarti in gol così. Bravi. Bravi ragazzi. Figuraccia. Figuraccia. Vergogna. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Che schifo. Vergogna. Vergognateli ragazzi. Io. Io non so che dire ragazzi. Io. Giochiamo anche bene. Facciamo anche una partita di 100. Però, come al solito, non prendiamo nel culo. Bravo a Levi che sbagli i cambi. E ci complica la situazione. Ne parlo tra poco come posta qui per ragazzi. Fino a fine pozza io e anche in questi momenti di difficoltà. E ci vediamo alla prossima. Stay tuned ragazzi. Stay click. Non ho più parole per dire questa. Per descrivere questa mia delusione. Arrivederci. Arrivederci.